cari amici di visione tv ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con il personaggio del giorno che oggi è franco fracassi il quale ci presenterà il suo ultimo libro benvenuto ciao 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 buongiorno e grazie di aver accettato il mio invito chiedo alla regia se ci aiuta a mostrare al pubblico la copertina del tuo ultimo lavoro fatto assieme a paola pentimella testa dal titolo the italy project storia delle versioni atlantica tra mafia e terrorismo e massoneria disponibile anche in formato audio con la voce di beatrice silenzi io vorrei partire leggendo una parte tratta dalla prefazione del vostro lavoro questo libro è il frutto di 18 inchieste svolte nell'arco di 26 anni in cui la diciottesima il libro stesso questo libro è frutto di centinaia di interviste politici uomini delle forze dell'ordine militari magistrati e ancora dirigenti di stato agenti dei servizi mafiosi terroristi mercenari e chi più ne ha più ne metta membri di squadroni della morte guerriglieri trafficanti di droghe di armi faccendieri massoni banchieri broker finanziari storici esperti di tutte queste materie italiani e di altre decine di paesi del mondo questo libro è il frutto della raccolta e dell'analisi di decine di migliaia di documenti filmati nastri audio fotografie collaborazione in diretta di colleghi giornalisti coraggiosi politici e ancora tra i più coraggiosi servitori dello stato questo libro il frutto di un meticoloso lavoro di collegamento fra questa gigantesca messa di informazioni e di un sapiente lavoro di analisi storico politica criminologica che ha portato speriamo una nuova visione della storia italiana e non solo degli ultimi 80 anni questo libro sarà in grado di ricostruire come quelle vicende dalla trattativa o forse bisognerebbe dire patto stato mafia iniziato nel 43 e indotto da forze esterne al nostro paese sarà appunto in grado di ricostruire come tutte queste vicende apparentemente italiane non rappresentassero altro che un punto chiave della geopolitica mondiale di lì a venire si tratta di una premessa lungimirante di ampio respiro io vorrei chiederti qual è la storia che sta alla base della nascita di questo volume e in quale momento in particolare avete sentito l'esigenza di mettere assieme i tasselli di un lavoro durato appunto 26 anni e con quale metodo allora l'esigenza è dovuta al fatto come a volte mi capita come a volte capita quando faccio le inchieste e è una cosa un po complicata da spiegare come se improvvisamente mi si accendesse una lampadina avete presenti film quelli in cui si vede magari un tabellone in cui ci sono cifre lettere totalmente sparse e arriva una persona e che improvvisamente riesce in mezzo a quella gran confusione a leggere e si illuminano nei film di solito queste cose delle parole che abbia un senso compiuto ecco a me a volte accade in questa maniera nel senso che mi sia come se mi si accendesse una lampadina dovuta a un input del tutto casuale che però improvvisamente mi fa unire puntini che fino adesso né io né evidentemente altre persone hanno mai unito ecco mi è accaduta una cosa del genere questa cosa mi è accaduta un giorno mentre mi trovavo negli Stati Uniti per fare un'intervista e improvvisamente tutto quanto mi è stato chiaro e allora ho contattato la mia amica e collega Paolo a ventimela testa che forse la più grande esperta di mafia terrorismo servizi segreti che ci sia in questo paese e e le ho chiesto di di fare insieme di mettere insieme le cose e di fare non l'inchiesta perché in realtà come tu hai letto bene eh poco fa l'inchiesta in gran parte era già fatta perché a frutto di tantissime altre inchieste ma eh bisognava metterla in fila bisognava ordinarla bisognava ovviamente verificare che questa mia intuizione avesse un senso o non fosse semplicemente un un delirio di un matto insomma ma avesse eh un fondamento ehm storico scientifico giornalistico fattuale e quindi abbiamo insomma abbiamo iniziato a intervistare una serie di personaggi a sentire una serie di fotti che potessero confermarci quello che noi avevamo scoperto. Ogni capitolo di questo libro in effetti può essere letto sia come una conferenza a sé stante sia come parte integrante di un tutto su cui si può avere un colpo d'occhio una visione di insieme solo giungendo alla fine. Sì in realtà il The Italy Project è un libro che racconta 80 anni di storia eh 80 anni di storia italiana ma anche 80 anni di storia mondiale in qualche modo perché l'Italia è stato il tramite eh diciamo in mezzo che hanno utilizzato gli Stati Uniti e America per portare avanti gran parte della loro politica estera mondiale non solamente riguardante il nostro paese e quindi le due cose si mescolano i due i due piani sovrappongono insomma dagli anni 40 in poi eh molte delle cose che sono accadute anche dentro gli Stati Uniti passano per Italia come per esempio l'omicidio eh di John Fitzgerald Kennedy insomma non lo spieghiamo in uno dei primi capitoli come perché ha a che fare con con l'Italia e e quindi ogni essendo una storia lunga complessa con tantissimi episodi a raccontare è evidente che teoricamente ognuno di quei capitoli potrebbe essere un libro eh però non potevamo fare un'enciclopedia quindi siamo limitati a fare un libro che peraltro è molto corposo perché è di era di di 500 pagine abbiamo dovuto ehm diciamo trovare un uno stratagemma di impaginazione per ridurlo a 400 e qualcosa perché sennò era veramente impressionante come altezza. Partiamo proprio dall'inizio e cioè dal titolo di questo libro The Italy Project che si riferisce a un documento emesso dagli Stati Uniti il 9 settembre del 1942 ci puoi spiegare di che cosa si tratta e in quale modo si collega ad altre date importanti per la storia della seconda guerra mondiale in Italia dell'immediato dopoguerra come per esempio la strage lecidio di Portella della Ginestra del 1947? Allora ehm The Italy Project è un è un accordo che è un documento che hanno prodotto gli Stati Uniti che poi si è tramontato in un vero e proprio accordo con lo Stato italiano e in che cosa consisteva? Gli Stati Uniti avevano bisogno di ehm sbarcare in Europa perché dovevano risolvere la seconda guerra mondiale in qualche modo e eh hanno individuato nell'Italia in particolare nella Sicilia il luogo di un possibile sbarco e quindi hanno eh attivato ehm una serie di 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 un vero e proprio piano molto complesso che ehm che ehm vedeva come protagonisti di questo sbarco due soggetti uno ovviamente al di là dei soldati americani britani e quant'altro un soggetto era la mafia cosa nostra in particolare sia cosa nostra negli Stati Uniti che cosa nostra in Sicilia e il secondo erano i fascisti perché ehm all'epoca l'Italia era un paese fascista e quindi avevano avevano pensato che c'era bisogno di un di un accordo di un un qualche aiuto all'interno da parte dei fascisti e diciamo ci sono due soggetti che sono esemplificativi di questo accordo perché poi rimarranno molto amici nel corso dei decenni successivi e anche sodali una serie di di ehm di affari di imprese politiche imprenditoriali e che sono due aspetti di poi quello che ha governato in maniera occulta il nostro paese un personaggio si chiama Licio Gelli e l'altro si chiama Michele Sindona allora Licio Gelli era un repubblichino quindi era un fascista era un ufficiale della Repubblica di Salò ed ha in qualche modo favorito da fascista lo sbarco degli americani in Sicilia e invece Michele Sindona era un italiano americano viveva negli Stati Uniti d'America quindi veniva da da un altro mondo ed era un mondo invece molto più legato a Cosa Nostra questi due personaggi che entrambi hanno un ruolo ehm nello sbarco americano in Sicilia poi diventeranno due dei personaggi chiave del dopoguerra non solo per la gestione della politica dell'economia italiana ma per la gestione della politica dell'economia di veramente di quasi tutto il mondo sempre per conto degli Stati Uniti d'America perché loro hanno sempre fatto i portavoci di Washington. Facendo un salto avanti nel tempo ti chiedo di parlarci allora dell'operazione Caos a cui è dedicato un altro capitolo di questo volume e in che modo si intreccia alla storia della prima repubblica l'operazione Caos risale all'inizio degli anni sessanta al 1963. Allora l'operazione Caos è un'operazione ehm portata avanti da alcuni settori da un gruppo di potere che poi è quello che prende il sopravvento dopo la morte di John Fitzgerald Kennedy perché era un gruppo di potere osteggiato da eh John Fitzgerald Kennedy e ehm una volta che muore Kennedy questo gruppo di potere che era composto principalmente dal Pentagono cioè il Ministero della Difesa tutto il comparto eh delle forze armate dalla CIA da alcuni settori della CIA e ehm diciamo da alcune multinazionali molto potenti legati a settori di estrema di estrema destra negli Stati Uniti bene loro ehm sfornano questo piano questa operazione che è un'operazione a livello mondiale ed è un'operazione che eh sostanzialmente dice noi dobbiamo affermarci è un potere invasivo non è un potere di perché ovviamente la 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 politica può essere una politica eh più dirottata verso l'interno degli Stati Uniti oppure verso il resto del mondo l'abbiamo visto per esempio c'è una differenza tra Trump e Biden e Biden sono due tipi di potere differenti bene ehm questo tipo di potere è un potere invasivo cioè proiettata verso il resto del pianeta e loro sostanzialmente dicono noi dobbiamo controllare cioè noi dobbiamo riuscire a controllare più paesi possibili e dobbiamo riuscire a non farci sfuggire di mano i paesi specialmente quelli dell'Europa occidentale che noi che in quel momento loro controllavano con un pugno saldo perché facevano parte erano appunto un diciamo un elemento essenziale della guerra fredda e del mondo che è uscito fuori dal congresso di alta e ehm e loro eh fanno questo attraverso una serie di stratagemmi allora uno di questi stratagemmi è ehm costruire diciamo dei ehm dei diversivi delle dei finti eventi degli eventi che ehm portano gli Stati Uniti a passare per vittime quando invece non lo sono per nulla ehm degli eventi provocati agli stessi Stati Uniti America il secondo è quello di eh tutto questo è scritto nero su bianco sono documenti oramai che appartengono alla storia il secondo è quello di ehm controllare il nemico dal di dentro quindi loro decidono che bisogna infiltrare tutti i movimenti di estrema sinistra i partiti comunisti che ci sono in Europa i movimenti sindacali e infitarli con loro uomini e per loro uomini loro intendono i fascisti e i nazisti e questa cosa la fanno in Europa la fanno in America Latina la fanno un po' dappertutto nel senso che eh dentro il partito comunista entrano dei fascisti si iscrivono al partito comunista si iscrivono alle forze extra parlamentari si iscrivono a lotta continua si iscrivono a prima linea di entrano nelle brigate rosse entrano ehm in tanti altri movimenti e eh associazioni eh anche estreme in qualche modo e addirittura teorizzano una terza cosa ancora più invasiva ovvero ehm creiamo noi direttamente dei movimenti estremisti di sinistra che ci contrastano e questa cosa porterà per esempio in Italia alla fondazione di un partito che è il partito maoista che è un partito che raccoglierà alcune centinaia di milioni eh scusate alcune centinaia di miliardi di eh seguaci di membri di questo partito oggi ci sono due personaggi molto famosi che facevano parte di quel partito che sono Paolo Mieli ehm e Renato Mannheimer persone che del tutto ignare insomma si sono buttate tra le braccia del partito maoista senza rendersi conto che era stato fondato dai nostri servizi segreti per conto della CIA eh utilizzando neofascisti neofascisti infiltrarono il movimento anarchico sostanzialmente l'intera estrema sinistra e sinistra italiana furono infiltrati dai ehm dall'estrema destra e la stessa cosa accadde in Francia in Belgio in Germania in Spagna ma anche in Argentina in Brasile e altrove e l'operazione caos portò eh nei casi i più estremi a veri e propri colpi di Stato elementi essenziali diciamo eventi essenziali di quell'operazione dell'operazione caos furono per esempio il colpo di Stato Finochet in Cile quello eh in Argentina degli ammiragli eh il colpo di Stato in Brasile eh il colpo di Stato in Grecia nel 1967 insomma ci furono tantissimi eventi enormi anche eh delittuosi non solo colpi di Stato ma anche stragi o assassini rapimenti che facevano parte di questo piano dell'operazione caos sempre tesi a addossare le colpe a qualcun altro cioè gli Stati Uniti non c'entravano mai il punto deve essere questo non essere gli avversari degli Stati Uniti a portare il caos non gli Stati Uniti Insomma la strategia dell'attenzione ricorda molto da vicino quello che oggi viene definito gatekeeping ma il concetto è molto simile Sì sì è proprio un la strategia dell'attenzione è frutto dell'operazione caos perché poi in ogni paese l'operazione caos ha assunto degli aspetti differenti no? in Italia ha assunto l'aspetto della strategia dell'attenzione Prima tu hai citato Licio Gelli e la massoneria è un'altra presenza ricorrente del tuo libro qual è il ruolo ha svolto nella storia di quegli anni? Allora non solo di quegli anni di questi anni il libro arriva alla fine giorni nostri cioè il libro sostiene che l'Italy Project cioè questo accordo è ancora in essere non è un accordo che appartiene dal passato la massoneria è il collante di tutto questo perché la massoneria è una stanza è un luogo come se fosse una stanza a cui hanno accesso tutti alla massoneria hanno accesso a una loggia massonica hanno accesso persone che sono che appartengono a lavori differenti ci possono essere militari come giornalisti come politici come uomini di cultura e così via hanno accesso persone di censo diverso perché nessuno ti chiede quanto guadagni sei un fratello massone punto e hanno accesso persone anche di cultura differente ci possono essere cattolici e ci possono essere anche atei ci può essere chiunque è una sorta di camera di compensazione tra le differenze dei vari ambienti sociali ed economici e ovviamente all'interno della massoneria ci possono anche essere mafiosi con cui per esempio l'andrangheta utilizza tantissimo la massoneria perché è il luogo a cui l'andrangheta entra in contatto con il mondo esterno all'andrangheta ma non è solamente l'andrangheta che utilizza la massoneria ecco la massoneria è fatta da collante a tutto quanto questo perché era il luogo dove si incontravano queste persone dove si potevano incontrare terroristi rossi insieme a terroristi neri insieme a mafiosi insieme a uomini dello stato italiano insieme a uomini di stato statunitense insieme a altri personaggi di ogni sorta tutti quanti fratelli e tutti quanti uniti per portare avanti lo stesso obiettivo tu poco fa mi hai anticipato svelando che la tesi di fondo di questo volume che Italy Project sia ancora in corso prima di arrivare ai giorni nostri tuttavia io vorrei chiederti un commento anche sulla fine del secolo breve che si tinge di una nuova ondata di sangue tu e Paola nel volume parlate della dissoluzione della ex Jugoslavia ma anche delle stragi di Capaci via D'Amelio dal vostro punto di vista c'è un collegamento fra questi eventi e in quale contesto storico si inseriscono? sì c'è un collegamento perché come ho spiegato prima gli eventi che sono accaduti in Italia hanno molto a che fare con la politica estera degli Stati Uniti e con la gestione del mondo degli Stati Uniti allora le stragi di Capaci via D'Amelio hanno molto a che fare con la guerra di Jugoslava perché sono conseguenti alla volontà degli Stati Uniti di far scatenare la guerra di Jugoslava allora per fare un parallelismo con oggi immaginiamo la guerra di Jugoslava come la guerra d'Ucraina un paese, Jugoslavia, in cui c'erano diciamo religioni, convivevano religioni diverse e riuscivano a convivere tranquillamente tra di loro senza discriminazioni senza ostilità da parte di un gruppo sociale o religioso rispetto a qualcun altro senza nessun tipo di razzismo bene, gli Stati Uniti a un certo punto decidono che la Jugoslavia deve saltare in aria ci mettono 10 anni a far saltare in aria la Jugoslavia come ci hanno messo 30 anni a far saltare in aria l'Ucraina ci mettono 10 anni e utilizzano tutti i mezzi possibili a loro disposizione da l'infiltrazione attraverso la struttura di Gladio quindi estremisti di estrema destra che incominciano a sabotare lo Stato Jugoslavo dall'appoggio a estremisti islamici che poi diventano il potere della Bosnia del Stato Bosnico che nascerà dall'utilizzo di pressioni economiche anche attraverso il Fondo Monetario Internazionale che è appunto da sicari per quanto riguarda gli Stati Uniti per quanto riguarda la Jugoslavia a pressioni di altro genere il fatto sta che dopo 10 anni di queste pressioni indicibili e di tentativo di spaccare la società Jugoslava dopo la caduta del muro di Berlino era giunto il momento di far scoppiare la guerra e la guerra effettivamente scoppia perché alla fine hanno creato tutte le condizioni necessarie perché la guerra scoppiasse la guerra scoppia ma il punto è che nel frattempo in Italia erano cambiate le cose cioè l'accordo degli Italy Project non sussisteva più o quantomeno non come era stato progettato all'inizio perché c'erano due magistrati non solamente loro due ma in particolare due magistrati Falcone e Borsellino che hanno fatto saltare quell'accordo bisognava rimetterlo in sesto e ovviamente far fuori due magistrati la morte di Borsellino non è che è dovuta solamente a questo ma è stata necessaria per poter proseguire in maniera vittoriosa perché alla fine gli americani hanno vinto quella guerra dopo 10 anni è durata dal 91 al 2001 dopo 10 anni hanno finalmente vinto la guerra hanno disintegrato completamente quel paese quella guerra per poterla vincere era necessario passare dalla morte di Falcone e di Borsellino e questo hanno ottenuto ovviamente non è l'unico motivo per cui sono morti ma per gli Stati Uniti è l'unico motivo per cui sono morti il vostro libro si chiude con un'intervista al colonnello dei Carabinieri Michele Riccio che nel 1995 era andato molto vicino alla cattura di Provenzano grazie alla collaborazione con Luigi Lardo un ex uomo di Cosa Nostra che poi aveva deciso di aiutare la giustizia e che proprio per questo ha trovato la propria fine in maniera violenta volevo chiederti a quando risale l'intervista che avete fatto e come mai avete scelto questo passaggio come conclusione del vostro libro e come suo emblema? Allora abbiamo l'intervista risale a mi pare l'anno scorso le scorse state in realtà sono tante interviste che noi abbiamo fatto a Riccio e l'intervista noi abbiamo pubblicato nel libro che poi è un capitolo molto corposo credo siano 25 o 26 pagine di intervista in realtà è frutto di un'intervista che è durata giorni, giorni, giorni e giorni perché la vita di Riccio è straordinaria si potrebbe fare nemmeno un film una serie tv su di lui è un personaggio incredibile e abbiamo deciso di metterlo alla fine del libro perché lui riassume il libro riassume il libro nel bene e nel male nel bene perché Riccio è uno degli eroi di questo paese è una di quelle persone che hanno come Falcone, Borsilino e molti altri che hanno che non si sono piegati a Italy Project e che l'hanno combattuto in tutti i modi partendo Riccio ha avuto a che fare con con la lotta al terrorismo delle Brigate Rosse con il caso Moro con la lotta alla mafia insieme a Dalla Chiesa con la lotta alla mafia insieme a Falcone e Borsilino insomma Riccio ha attraversato quasi tutto i luoghi e le vicende che hanno insanguinato l'Italia dagli anni 70 in poi e un diciamo ha una valenza negativa nel senso la sua storia dal punto di vista negativo è che appunto lui si è occupato di tutte quante queste cose quindi le ha vissute da dentro le ha vissute da investigatore dei carabinieri da investigatore di altri organi dello Stato le ha ne conosce le dinamiche e le ha subite queste dinamiche perché la cosa più incredibile è che è questo uomo che era arrivato a scoprire il il luogo dove si rispondeva Provenzano circa dieci anni prima di quando poi è stato catturato quest'uomo è stato non solo messo sotto inchiesta allo Stato italiano ma è stato proprio arrestato cioè è finito in galera cioè lo Stato italiano è talmente coinvolto in Italy Project che ha messo in galera uno dei suoi migliori servitori e ha provato a distruggerlo in tutti i modi e solo grazie al fatto che Riccio era talmente dentro quei meccanismi da conoscerli a perfezione alla perfezione che è riuscito a uscirne fuori perché lui i carabinieri hanno il rosso ha perquisito la sua casa perché voleva trovare tutti i suoi appunti e distruggerli e cosa dicevano quegli appunti? quegli appunti raccontavano delle responsabilità del nostro Stato raccontavano delle responsabilità degli Stati Uniti e America raccontavano dei legami che c'erano tra gli Stati Uniti l'Italia la mafia il terrorismo di come la massoneria avesse parte diciamo integranti di tutto questo di come ci fossero magistrati poliziotti carabinieri militari di ogni sorta coinvolti politici coinvolti in queste vicende e lui sapendo conoscendo i meccanismi che regolano appunto l'Italy Project ha pensato bene di far sparire queste prove in maniera anche rocambolesca e quindi è riuscito a non farsi sequestrare nulla e alla fine a utilizzare visto che poi è una persona pulita è uscito pulitissimo dai processi che gli hanno fatto ed è in questo momento è forse uno delle rappresenta una banca dati vivente come nessun'altra ci sono in Italia Io ti ho fatto alcune domande focalizzate su alcuni specifici capitoli del libro per dare un colpo d'occhio alla sua struttura complessiva ma naturalmente all'interno si trova molto altro c'è l'Afghanistan c'è la nascita il ruolo di Al Qaeda ci sono i Clinton quindi ultima risposta scelta Allora io più che la risposta faccio una domanda ai nostri telespettatori mi siete mai domandati perché in Italia non c'è mai stato un attentato di Al Qaeda o dell'Isis che è la cosa più assurda che ci possa essere perché l'Italia è il luogo dove si trova il Vaticano che in assoluto è il nemico giurato di Al Qaeda e dell'Isis l'hanno detto in tutti i modi ci hanno fatto l'Ideo distruggeremo Roma il Vaticano quello quell'altro poi hanno fatto attentati in tutti i paesi d'Europa e del mondo ma mai nessuno in Italia ecco leggendo The Italy Project e leggendo leggendo il libro seguendo le vicende che noi raccontiamo si capisce si dà una risposta a questa domanda che io vi ho posto ricordo ancora una volta il titolo del libro di Franco Fracassi e Paola Pentimella a testa possiamo farlo vedere ai nostri telespettatori The Italy Project storia delle versioni atlantica tra mafia e terrorismo e massoneria possiamo Franco ricordare come sempre al pubblico in che modo possono contattarti per chiedere una copia in formato scritto oppure audio? Allora le copie possono essere sia il libro cartaceo che il libro in pdf che l'audiolibro come ricordate letto da Beatrice Silenzi ma non è solamente letto ha le musiche ha tantissime cose insomma è come se fosse come se fosse un documentario però senza immagini allora per averli bisogna scrivere al mio indirizzo personale che è francofracassi1 chiocciola gmail.com francofracassi1 al numero chiocciola gmail.com voi mi iscrivete io vi spiegherò come fare ad avere il libro e ovviamente se prenderete il libro cartaceo vi arriverà a casa con la dedica come faccio sempre ovviamente non tenete conto che il libro non vi arriverà subito non sono Amazon quindi chi ha già comprato i libri a me lo sa bisognerà aspettare un pochettino ma insomma alla fine arriva ed è l'unico modo per averlo non ci sono altri modi bene grazie di essere stato con noi spero che tornerai a trovarci presto ti saluto ciao grazie mille a voi grazie a te a presto io ringrazio anche voi e vi ricordo come sempre prima di salutarvi che Visione TV è una testata libera indipendente e si regge sulle vostre donazioni potete sostenere il nostro lavoro tramite bonifico oppure tramite paypal i numeri sono quelli che vedete in sovraimpressione grazie ancora una volta e alla prossima grazie a tutti